Due giovani studenti e una dipendente del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila saranno i protagonisti del corteo storico della Bolla della 722esima edizione della perdonanza celestiniana. La dama della Bolla, della Croce e il Giovin Signore sono stati presentati questa mattina a Palazzo Fibioni. La dama della Bolla è Leonora Ciocca, 30 anni, laureata in giurisprudenza, dipendente del Gran Sasso Science Institute. Ferdinando Carlucci è il Giovin Signore, 19 anni, studente di economia e commercio, nato ad Avezzano ma residente all'Aquila. Francesca Pancella invece è la dama della Croce, 22 anni, studentessa di ingegneria aquilana. Spero che quest'anno in particolare la partecipazione della cittadinanza sia veramente molto attiva perché questi riti, queste manifestazioni, queste tradizioni sono molto importanti per ricostruire il tessuto sociale della città che ne ha tanto bisogno. C'è una descrizione per questa emozione, soltanto quello che penso è che è un onore portare questo vestito perché si rappresenta una città in un momento delicato, diciamo difficile perché a sette anni dal terremoto siamo in una situazione di ricostruzione dove non solo le case vanno ricostruite ma anche la mentalità e anche quello che è essere aquilano. Per me è molto importante soprattutto perché è un modo per dire io ci sono e io è da sempre che partecipo al corteo come figurante e quest'anno portare la croce che è il ringraziamento al cardinale della perdonanza appunto di questo giubileo è veramente bellissimo. Quest'anno i ragazzi simboleggiano la formazione e l'alta formazione della nostra città, ha detto il sindaco Cialente nel presentare i protagonisti del corteo del 28. Il corteo storico di domenica è diviso in due tronconi, il primo con la bolla del perdono partirà alle 16 da Palazzo Fibioni, il secondo dalla villa comunale. Si incontreranno come sempre sul prato di Colle Maggio e arriveranno in tempi diversi. Un'esigenza che si è resa necessaria per smaltire l'affluenza e permettere un passaggio regolare vista la presenza di cantieri della ricostruzione. L'altra novità di quest'anno è l'apertura parziale della Basilica di Colle Maggio.